Risultavano titolari di aziende individuali ma in realtà erano senza lavoro oppure lavoravano in nero, il tutto per poter richiedere il ricongiungimento con un familiare presentando addirittura un'attestazione fasulla di residenza. Adesso il sostituto procuratore Angela Masiello ha chiesto il rinvio a giudizio di 12 cittadini somali di un commercialista fiorentino che avrebbe appunto provveduto a fornire agli stranieri la documentazione falsa. Dovranno rispondere di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini portate avanti dalla Digo saranno partite nel 2015. Gli stranieri secondo l'accusa si sarebbero rivolti al commercialista fiorentino per poter ottenere le carte da presentare per il ricongiungimento familiare, CUD, redditi di imprese e bilanci pagando per ottenere le carte dai 100 ai 200 euro a pratica. Gli stranieri sono tutti residenti in regioni del centro e del nord Italia ma avrebbero dichiarato come domicilio alcune abitazioni di Foiano della Chiana. L'udienza preliminare di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo è stata fissata per il prossimo 9 ottobre.